cari amici di farina e cucina ben ritrovati oramai manca pochissimo alla santa pasqua e lui per noi è appuntamento irrinunciabile con la sua meravigliosa pastiera lui è sabatino sirica amica ve lo devo presentare il problema serio è che io oggi anziché cimentarmi e grattugiare che ne so l'arancio o sbattere le uova dovrò fare una valletta in piena regola con il microfono sapete perché perché lui da accanito tifoso guardate un po che voce che ha salutiamo gli ascoltatori buonasera buonasera a tutti scusatemi della voce un po' coraggio è tutta colpa del napoli è tutta colpa del napoli tra l'altro sabatino sirica oltre che ad essere pluripremiato per esempio vincitore nella categoria miglior sfogliatella d'italia è una cosa che non ci si può credere ma lui è anche l'autore del 100 per cento delle torte che vengono mangiate dai calciatori del napoli è vero tante belle torte ricordiamo che nelle sfogliatelle facciamo una frolla grande questa voglio raccontare questa frolla grande che un giorno il portiere di fusco disse sembra di ma sta frolla piccolina ma che già fa fammi una torta pomma di frolla e qua è nata la cosa la stiamo e la stiamo divulgando perché è una bella cosa quindi una torta grande a forma di sfogliatella mi viene la colina in bocca allora oggi pastiera quanto tempo prima le massaie da casa si devono organizzare per la pastiera quanti giorni noi siamo in notevole anticipo ma diciamo ma diciamo che necessariamente che mettono in zucchero la ricotta e con lo zucchero e la devono far riposare un giorno in frigorifero un giorno anche due giorni perché si scioglie lo zucchero per bene e riesce ad essere più lucida quindi la pastiera è certamente un dolce che va preparato con un certo anticipo adesso vedremo in sovrimpressione la ricetta io ve la leggo per la pasta frolla che è uno spettacolo di pasta frolla inutile dirlo di sabatino sirica utilizzerete mezzo chilo di farina pasticceria caputo 250 grammi di burro 225 grammi di zucchero due uova intere vero sabatino poi un po di bacca di vaniglia l'altro poco vedrete come lo utilizzeremo e mezza arancia grattugiata per il ripieno invece preparate 350 grammi di ricotta 350 grammi di grano 225 grammi di zucchero 80 grammi di tuorli poi dopo vedremo più o meno di capire quanti sono 70 grammi di cubetti quelli canditi l'altro po di bacca di vaniglia e l'altra metà di arancia grattugiata le uova di mi dicevi quanto sono più o meno sono quattro uovo quattro uova perché ogni tuorla pesa 20 grammi quindi quattro uova medie voi sappiate che ce ne vogliono comunque 80 e la cosa come spesso ci dice il nostro ospite la pasticceria è una scienza esatta quindi le regole bisogna pesare tutto allora da dove partiamo vogliamo fare cominciamo con la frulla ok spostiamo allora quello che non ci occorre ecco qui allora usiamo la farina pasticceria caputo vero sì sì no 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 prendi quella che l'abbiamo già pesata sì adesso era per farla vedere anche se le nostre amiche la conoscono bene la conoscono bene e devono sapere non non vuole essere che voglio fare le sviolinate perché veramente la farina di caputo ci ci consente di poter fare tutti i tipi di dolci da una frolla da un impasto di babà da una sfogliata riccia o un'altra anche per gli gnocchi che io uso per le zeppole fritte è una farina eccezionale questa non la sapete che cosa ci ha svelato una cosa bellissima allora la farina la mettiamo sul sulla spianatoia a fontanella naturalmente anche il burro lo zucchero le uova devono essere tutti ingredienti di prima qualità se no è finita la storia ecco qui burro appomata burro appomata quindi non sciolto attenzione neanche freddo e non freddo perché se no non andiamo bene perfetto la pasta però la si va col burro non perdete tempo a fare con altre cose allora però a loro del vero dobbiamo dire che negli anni 40 50 la frolla per la pastiglia nasceva con lo strutto perché lo strutto al di là di tutto si può pensare comunque un grasso nobile uno strutto di qualità viene una frolla ancora più verben e più frullosa noi in effetti abbiamo fatto sì di andare incontro alle generazioni usando il burro e che insomma c'era poi lo stesso comunque la stessa resa però certo insomma vabbè chi ha le vecchie ricette delle nonne forse ce l'avrà con lo strutto però insomma certamente sono un po più strong come consistenza benissimo che cosa subito la bacca di vaniglia gli aromi si mettono subito quindi mezzo di qua e mezzo la metteremo di là perfetto questo è un compito vedete di solito mi toccava invece oggi no perché noi abbiamo una terra che ci regala tante belle cose a proposito di questo sabatino poi noi abbiamo stiamo preparando uno speciale dedicato a mille e un babà tu sei facevi parte della giuria sei stato lì e molti di questi giovani pasticceri hanno utilizzato proprio gli agrumi anche per la bagna ci sono state cose molto nuove io ho trovato veramente dei ragazzi molto preparati professionalmente dialetticamente pure ne spiegare poi quelle che le motivazioni le motivazioni cioè noi abbiamo una terra che ci regala tante cose io sono il primo già da sempre a fare gli infusi dei limoni delle arance dei mandarini che ci dà un sapore particolare completamente i ragazzi hanno capito insomma come 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 si deve fare per avere un aroma naturale lo vedremo comunque nel nostro speciale che andrà in onda alla fine di questo ciclo di farina e cucina intanto ecco qua questa è un'altra caratteristica della pasta frolla di sabatino silica quella di avere la buccia grattugiata che dopo la vedrete anche vero quando si lavora la continuiamo a vedere ma noi le nostre i nostri agrumi li usiamo in tutti i prodotti per le frolle in generalmente qua ci vuole l'arancio ma noi nelle frolle generalmente usiamo i limoni poi le arance e il limone che consumiamo nella mia pasticceria non lo so gli altri allora ci danno un sapore diverso è un sapore diverso allora ammorbidire burro e zucchero mescolare un po' con la volta senza intaccare la farina a prima lo zucchero quindi la farina dopo sì perché se bisogna amalgamare con lo zucchero vedete quando il burro è tenero e pomato come si riesce a mescolare sabatino mi dici tu per le uova quando li puoi rompere così non dici soltanto ok però adesso poggio un attimo questo qui vi faccio sentire il rumorino qua dentro vado una e due si vedono quando non si rompono vuol dire che sono fresche certo il tuorlo resta così com'è ecco che piano piano viene incorporata tutta quanta la farina sempre delicatamente in modo che non si va a incordare sabatino a proposito di incordare la pasta frolla va fatta a mano non è inutile mettere in mezzo impastatrici planetari quando sono questi piccoli impasti si può fare tranquillamente ma pure perché io nasco quando tenevo 12 anni in questo piccolo laboratorio non c'erano i macchinari e allora mi è rimasta questa bella fede di fare le cose ma quelle che posso fare ma i ragazzi nelle scuole cerco di fare impastare sempre a mano ma sì perché poi anche per capire come deve essere la consistenza come deve essere la morbidezza la macchina si ti aiuta però non riesce mai a vedere ora voglio far notare che l'impasto l'impasto che ho fatto adesso è uguale a quello che ho fatto precedentemente perché ci serve un impasto già riposato ecco ecco quindi diciamolo alle nostre amiche al di là della ricotta e dello zucchero poi ci ritorniamo che devono riposare anche la pasta frolla il giorno prima senti la mettiamo dove in frigo metti in frigo si riposa si matura con magari uno straccio una pellicola sì sì un pellicolato in pellicolato ecco qui quindi adesso questa sta qui perché poi la dovremo stendere naturalmente ma noi passiamo momentaneamente al ripieno allora naturalmente vi facciamo vedere come si fa ma sabatino ci ha spiegato che questo che questo impasto che adesso vi faremo vedere deve riposare uno anche due giorni due giorni solo ricotta e zucchero e si mette in frigorifero si prende al momento della pastiera e si aggiungono tutti gli ingredienti noi adesso lo facciamo velocizzato naturalmente per farvi vedere anche com'è la lavorazione senti mentre tu passi un po la ricotta la schiacci ti volevo chiedere qualcosa sul grano questo è il grano che noi troviamo ovunque insomma anche supermercati basta capire insomma una buona marca di grano perché ce ne sono di tanti e poi tu lo fai bollire di nuovo? lo mettiamo un poco sul fuoco leggermente un pizzicotto di sale un poco di sugna si mette leggermente e si va un poco ad assorbire l'acqua che ci mette dentro va livellato grano livellato con l'acqua e si fa asciugare perfetto la consistenza quindi sarà questa ok intanto magari ve la ricordo la la ricetta per quanto riguarda il ripieno ci saranno 350 grammi di grano altrettanti di ricotta bella asciutta 225 di zucchero 80 grammi di tuorlo poi i famosi cubetti di arancia candita l'altra metà di bacca di vaniglia e l'arancio grattugiato quindi noi faremo riposare solo ricotta e zucchero e quando dopo due giorni l'andiamo a prendere per fare la nostra pastiera ci mettiamo il resto ci aggiungiamo il grano ok ci aggiungiamo il grano le uova quando adesso si metteranno tutte insieme allora le uova acchiappa un po' con questa marisa con questa marisa non metto l'albume perché l'albume c'è da farla gonfiare un poco invece il tuorlo la mantiene la macchina è bella compatta dopo di che aggiungiamo i cubetti e la l'altra metà di bacca di vaniglia procediamo perché il tempo è tiranno allora qui siamo alla fase della dell'arancio grattugiato che sostituirà tutte quelle fialette insopportabili perché o ne mettete troppe o ne mettete troppo poche cogliete delle arance se ci avete un giardino dove coglierle o fatevele dare freschissime dal vostro rivenditore di fiducia e il risultato mamma mia che profumo che non possono sentire le persone è peccato vero perché c'è un profumo che senti sabatino nel frattempo chi sarà a casa facendo questa cosa deve già accendere il forno come deve essere il forno per la pastiera lo riescono già possono prepararlo lo mettono a 180 gradi e una pastiera insomma di questo calibre si vanno a testare dai 40 45 minuti il ripieno pronto e profumatissimo sabatino invece sta stendendo la pettola si chiama vedete come si stende bene non si va a ingordare e guardate i pezzettini che vi dicevo prima che si sono anche nella mi piace da morire questa cosa tutte le scorzette di arancia che si introdigono ci tengo a precisare che noi in pasticceria non facciamo maghi non è che sto facendo faccio vedere le arance perché dobbiamo fare la registrazione quelle ci stanno sempre le facciamo sempre questo è sinonimo di qualità mi preparo con il ruotino senza burro senza niente mi sogno perché la pasta frolle già ci porta il burro e non si attacca pensa io l'avrei inguacchiata ok con questa ricetta di sabatino sirica deve venire così non vi si romperà state tranquille dovrete farla riposare come ha detto lui un giorno intero giorno va bene anche se bastano mezzo guida di pasta frolle di avanza lo possono conservare o in modo che si rendono conto che da una pasta frolla di mezzo guida possono fare due pastiere l'andiamo a buquerellare in modo che non si gonfia la frolla va bene ok ci siamo ci siamo ripieno tutto non vi preoccupate anche se vi sembra tantissimo eh la dose è quella giusta ecco fatto allora mi raccomando come ha fatto lui di livellare bene tutta la pasta frolla poi la spostate un attimo poi chiamate sabatino sirica che vi fa le striscette perché quelle sono ci vogliono 46 anni di esperienza per fare le striscioline a me ci sono tante massaiche che hanno imparato bene a fare e di fatti noi siamo qui per questo principalmente le pastiere la pastiere poi la cosa bella delle massaiche poi la pastiere che fa mamma è sempre meglio dell'altra e ma quella che fa sabatino è altra cosa però allora taglio netto strisciolina di un dito ecco qua rimettiamo questo qui nel frattempo lo ricordiamo forno a 180 gradi 175 circa 180 che essendo essendo un colpo liquido chiaramente ha bisogno una cottura blenda se no così si cuoce subito ok allora noi terminiamo la mettiamo in forno ma naturalmente noi cotta ce l'abbiamo già da un pacco di farina pasticceria caputo alla meravigliosa e profumatissima pastiera di sabatino sirica un capolavoro un profumo straordinario quali sono i due tre passaggi sui quali le nostre amiche e i nostri amici da casa dovranno stare particolarmente attenti fammi dire il fatto che hai detto i profumi particolari i profumi perché ci sono i prodotti di qualità allora un dolce profumo solo quando ci sono i prodotti di qualità e i prodotti naturali assolutamente senza magie senza magie però diciamo quali possono essere i due tre passaggi proprio i passaggi che devono la ricotta zuccherato 12 giorni prima e poi il resto lo mettono poi fanno tutti il ripieno la pasta frolla va impastata il giorno prima in modo che si riposa e matura nel stesso momento anche in poco di colore va bene quindi la cottura devono osservare insomma quando diventa più o meno diciamo diciamo 45 minuti per 175 170 poi questa dimensione guardano loro se è necessario tirare la prima lasciala stare un altro poco non deve essere che deve si deve muovere quando stanno in fondo vuol dire che non è cotta ancora senti l'ultima domanda che ti voglio fare quando poi sarà cotta la togliamo subito o la lasciamo no 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 si deve togliere si deve togliere un'altra cosa quindi aprite il forno e la levate chiuso se no si asciuga troppo allora se vedono che la pastiera insomma tende ancora a essere mobile loro abbassano un poco il forno e la fanno ricocere ma anche un altro poco che è importante tutti questi consigli gratuiti grazie a farina e cucina e alle farine di caputo naturalmente devo ripetere però per l'ultima volta la ricetta esatta ora stefano ve la manda in onda anche a tutto schermo per la pasta frolla mezzo chilo di farina pasticceria caputo 250 grammi di burro 225 di zucchero due uova intere metà bacca di vaniglia e mezza arancia grattugiata fresca mi raccomando per il ripieno 350 grammi di grano 350 di ricotta 225 di zucchero 80 grammi di tuorlo che sarebbero un 4 uova medie solo i tuorli 70 grammi di cubetti di arancia candita l'altra metà di bacca di vaniglia e un arancio e mezzo grattugiato in forno 175 180 gradi dovrebbe venire questo capolavoro se no voi venite da sabatino sirica e insomma è lui ve la fa assaggiare come dio comanda mi possono anche scrivere mi danno whatsapp e io posso spiegare tutto pensate non ho segreti non ha segreti allora a me non resta che assaggiare voi se la volete provare la dovete solo rifare alla prossima buona pasqua a tutti grazie a tutti